Grazie, buongiorno a tutti, sono Alessandro Manfredini e sono responsabile della security del gruppo A2A e oggi vi porto il saluto di AIPS, del nostro presidente Andrea Crittaro che purtroppo ha avuto un impegno di lavoro dell'ultimo minuto e quindi non può essere qua con noi in questa bellissima giornata di confronto. Allora AIPS, la conoscete, è l'associazione di riferimento dei professionisti della security aziendale che negli ultimi mesi con non poco sforzo dei membri del proprio direttivo ha cercato e sta cercando di cambiare. Crediamo molto all'interno dell'associazione che proprio perché la security sta diventando una materia, un dominio interfunzionale e interdisciplinare all'interno del quale si muovono ambiti di tecnicismi molto molto verticali. Ecco, riteniamo che soltanto un lavoro di squadra possa portare effettivamente valore alle organizzazioni per le quali lavoriamo. Quindi per noi sicurezza partecipata interpretata all'interno della nostra associazione e quindi mi piacerebbe anche pensare interpretata che è una partecipazione su due fronti. Cerchiamo di far partecipare all'interno della vita associativa i nostri soci, i nostri colleghi, i nostri amici perché alla fine la nostra è una famiglia, è una famiglia professionale ma a volte i vincoli professionali si trasformano anche in vincoli di amicizia. Rispetto ad altri contesti, rispetto ad altre associazioni che frequento, quando si parla di security o di sicurezza in generale è molto più facile parlare di partecipazione di condivisione. Non dobbiamo sfruttare le minacce che fronteggiamo perché diventino leve competitive. Io in tutte le mie esperienze professionali ho sempre lavorato con a fianco il collega magari che operava per l'azienda competitor rispetto alla mia. Ebbene, c'era un tale trust, una tale collaborazione nell'affrontare assieme le tematiche di sicurezza che la competitività veniva affrontata su altri tavoli, tra altri colleghi. Quando c'è la sicurezza di mezzo che è un bene comune e che è un bene che tutti sentiamo nostro, le bandiere delle singole società vengono meno. E quindi questo è un po' lo sforzo che all'interno della nostra associazione stiamo facendo proprio per lavorare con i nostri soci e per accrescere evidentemente questo grado di consapevolezza. In maniera tale che a nostra volta possiamo noi contaminare le nostre organizzazioni. Perché una delle attività più onerose di questo povero security manager che soffre di questa sindrome di Calimero è quello di far capire ciò che fa all'interno delle proprie organizzazioni e far percepire il valore delle attività che fa. Che non sempre viene percepito in maniera corretta perché il più delle volte è più facile per qualcuno nelle nostre organizzazioni vedere il costo esposto piuttosto che il valore delle attività che noi facciamo all'interno delle nostre stesse organizzazioni. Fino a quando non succede poi un evento, un cigno nero che tanto nero non era perché effettivamente se si fosse guardato un pochettino più in là della punta del proprio naso quel nero sarebbe stato un grigino molto sbiadito, allora succede qualche cosa e allora a quel punto la security o la sicurezza diventa indispensabile, non si hanno più vincoli su budget e quant'altro. La seconda dimensione su cui AIPSA sta cercando di lavorare in ottica di sicurezza partecipata è quello ovviamente di, abbiamo l'ambizione di cercare di diventare un pochettino uno dei punti di riferimento con le istituzioni della nostra famiglia professionale e quindi nella sicurezza partecipata noi crediamo molto in iniziative di partnership tra pubblico e privato perché se è vero, come avete sentito prima, che esistano delle compliance molto rigide per alcune società che rappresentano evidentemente servizi essenziali o servizi digitali, esiste nel panorama nazionale dell'economia italiana tutta una serie di società che hanno anche fatturati importanti e know-how importante per il sistema economico del Paese che evidentemente non ricadono in quelle compliance che avete sentito prima, GDPR a parte. E quindi è importante per chi come noi che rappresentiamo tutte le imprese o meglio rappresentiamo tutti i professionisti che in un determinato momento storico si trovano a lavorare al servizio di una determinata organizzazione e vorremmo noi farci promotori di iniziative nei confronti delle istituzioni proprio per cercare di contribuire anche noi ad innalzare i livelli di sicurezza del sistema Paese. Alcune iniziative tangibili sono state delle convenzioni perché soprattutto quando poi si parla e ci si rapporta con ambienti istituzionali l'istituto della convenzione, già conosciuto da alcune organizzazioni, penso alla polizia ferroviaria piuttosto che alla polizia postale, ognuna delle nostre organizzazioni ha la possibilità di creare un trust e un legame con le istituzioni attraverso l'istituto della convenzione. Ebbene, anche come associazione abbiamo iniziato a tessere questa rete di relazioni in maniera strutturata con l'istituzione. Non può essere che parliamo con i nostri referenti istituzionali solo ed esclusivamente perché intravediamo nel funzionario o nel dirigente di quell'ufficio il nostro compagno di corso della scuola superiore di polizia o dell'accademia militare. Questo forse può aiutare nel trust, ma deve essere una relazione strutturata in maniera tale che siano chiari gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere assieme. Perché non sempre le finalità in un'ottica di sicurezza sono le stesse. Noi lavoriamo per organizzazioni che hanno delle finalità evidentemente di profitto piuttosto che per chi ha la fortuna di lavorare, come nel mio caso, anche di aziende che erogano servizi pubblici anche al di là del profitto. Le forze di polizia, per esempio, hanno altre finalità. Ecco, è importante avere chiaro nei rapporti che vogliamo avere in quest'ottica di sicurezza partecipata qual è il ruolo che ognuno di noi deve giocare all'interno del contesto. Quindi abbiamo fatto un primo atto formale con l'arma dei Carabinieri. Stiamo per farlo anche con la Polizia di Stato e ci auguriamo di poterlo fare anche con la Guardia di Finanza. Tra l'altro con la Guardia di Finanza soprattutto in tematica anche di anticontraffazione ci siamo visti all'interno del contesto associativo in Ferrari poche settimane fa, proprio per parlare anche di tematiche, se vogliamo, molto verticali ma che comunque afferiscono al mondo della security. Crediamo anche che, come associazione, che la sicurezza partecipata passi anche tra collaborazioni privato-privato. Quindi al di là del fatto che ci si ritrovi in alcuni contesti con il collega della propria azienda competitor a fianco, crediamo in una partnership privato-privato anche in questo caso strutturata. E quindi l'esercizio che stiamo facendo all'interno dell'associazione è quella di andare a recuperare le best practice dei colleghi già implementate nelle loro organizzazioni per poterle mettere a fattor comune di chi evidentemente non ha una capacità anche economico o comunque organizzativa per sostenere determinati processi. Ovviamente nel pieno rispetto di quelle che sono evidentemente il know-how aziendale e le informazioni che devono rimanere riservate, che quindi non possono essere divulgate. L'obiettivo però è quello di creare dei gruppi di lavoro concreti che possano mettere tutti nella condizione di potersi ispirare non solo più a uno standard internazionale o a una norma tecnica ma a una pratica concreta che il collega che lavora in una determinata organizzazione ha già messo sul campo e che quindi ha già dovuto confrontarsi con le difficoltà che magari ha anche superato e quindi può aiutare ripeto il collega o più giovane o più inesperto su quel determinato verticale a confrontarsi con la determinata materia. I due tavoli che stiamo per mettere in piedi sono quelli sulla travel security e quello evidentemente sulla cyber perché come dire stiamo cercando di stressare molto il concetto che cyber non è equivalente di technology. Sono due cose diverse. Io ho fatto tardi questa mattina e mi scuso se non sono riuscito a stare tutto il tempo insieme a voi durante i lavori perché ho dovuto partecipare a una riunione per un kick off di un progetto di business continuity. Allora tutti pensano business continuity, ah sì allora bellissimo, mettiamo i sistemi tutti ridondati, no attenzione, no business continuity è un'altra cosa, la continuità operativa è altro. L'IT o la tecnologia è una delle componenti messe al servizio ma poi ci sono i processi, poi ci sono le persone perché alla fine noi possiamo avere tutto ridondato, tutto backuppato e quant'altro ma se non c'è poi un omino che tira su l'interruttore e se hanno tutti il corri corri o il mal di pancia perché hanno fatto la cena aziendale la sera prima, noi possiamo avere tutti i disaster recovery di questo mondo, manca l'omino che tira su l'interruttore. Quindi i due tavoli che stiamo mettendo in piedi sono appunto sulla travel security che dopo le note vicende, le ultime sentenze che sono state pubblicate ha avuto evidentemente una trasformazione importante e quindi riteniamo che anche dal punto di vista della security noi abbiamo il dovere professionale, morale ed etico di dire, di dover dire la nostra e magari far capire ad altri colleghi l'importanza di avere strutturata una valutazione del rischio fatto in un determinato modo e anche una capacità di gestire l'operatività in contesti molto delicati in maniera tempestiva e professionale. Cyber è evidentemente con tutte le sue sfaccettature. Quindi direi una visione, stavo per dire inclusiva però, un po' troppo inflazionato ultimamente questo termine, quindi non me ne viene in mente un altro, però aggregativa, no? Aggregativa di persone, di competenze e questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati come associazione perché riteniamo che la security o la sicurezza debba essere approcciato in modo olistico. quindi a 360 gradi in tutte le sue componenti, sempre più per quanto riguarda i professionisti evidentemente che rappresentano funzioni apicali, sempre più in modo manageriale attraverso una capacità di mettere intorno al tavolo le giuste competenze tecniche e di processo perché da soli è impensabile riuscire a governare complessità di questo tipo a maggior ragione all'interno di organizzazioni che già di per sé facili non sono. Quindi l'invito ovviamente per chi ancora non ci conosce è di contattarci, di imparare a frequentarci e a conoscerci. Ci piace l'idea di lavorare assieme ad altri contesti associativi perché ripeto è soltanto che l'unione fa la forza e quindi soltanto assieme riusciremo a vincere le sfide che ci siamo prefissi di cogliere. Grazie. Grazie. Grazie.